Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Infipilì un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Eraeste e Montapoli-Valdarno verso Firenze. Segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori anche tra Vicarello e Lavoria, ancora una volta nella carreggiata verso il capoluogo. Uno sguardo alle statali sull'Aurelia, senso unico alternato per lavori, tra Stagno e Pisa fino al 30 aprile. Ci spostiamo sull'accordo Siena-Firenze dove troviamo riduzione di carreggiata per lavori tra Colle-Valdelsa Sud e Colle-Valdelsa Nord in direzione del capoluogo. Per la canteristica ricordiamo inoltre che sulla SR70 della Consuma il traffico è interdetto ai mezzi pesanti per lavori tra le località Palai e Consuma fino al 16 giugno. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!